Salve a tutti carissimi amici di YouTube. Prima di iniziare ad ascoltare questo audio, ti consiglio assolutamente di leggere l'articolo che ho creato riguardo a questo argomento. Almeno comprendi meglio di cosa andrai ad ascoltare. Ascolta l'audio con degli auricolari o delle cuffie. Siediti o sdraiati come preferisci. Chiudi gli occhi lentamente e concentra la tua attenzione sul tuo respiro. Inspira profondamente. Espira lentamente. Inspira pace, tranquillità, serenità. Espira tutte le tensioni, lo stress, il nervosismo. Inspira, espira. Espira. Adesso farò un conto regressivo da quindici a zero. Ad ogni numero che conto ti rilasserai sempre di più. sempre di più. Quindici. Quattordici. Tredici. Dodici. rilassati sempre di più. Undici. Dieci. Nove. Otto. Sette. Stato del relax. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Zero. pace. E tranquillità dentro di te. Adesso, tutte le volte che inspiri, voglio che ripeti mentalmente. Confido nella mia intuizione. E quando espiri, ripeti mentalmente. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Ripeti queste frasi per alcuni minuti. La risposta intuitiva può venirti in qualunque momento o manifestarsi nel trascorrere della giornata. Inspira e ripeti. Confido nella mia intuizione. Espira e ripeti. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Inspira. Confido nella mia intuizione. Espira. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Ispira. Confido nella mia intuizione. Espira. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. Adesso esegui da solo questo esercizio per alcuni minuti e cerca di rilassarti sempre di più. Confido nella mia intuizione. Confido nella mia intuizione. Fuori dalla mia mente, qualcosa di nuovo sarà rivelato. E' rivelato. E' rivelato. Grazie a tutti. 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 Più volte fai questo esercizio e maggiore sarà la possibilità di sviluppare il tuo intuito. Adesso, quando ti senti pronto, apri gli occhi lentamente. Ti ricordo che tutti i miei audio sono coperti da copyright ed è assolutamente vietato distribuirli. Se vuoi ascoltare un audio gratuito per rilassare la mente e il corpo, clicca nel link che trovi qui sotto in descrizione. E se questo audio ti è piaciuto, condividi, lascia un mi piace e iscriviti al canale. A presto, un saluto.